Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a questo nuovo spazio di approfondimento dedicato agli sviluppi del mercato assicurativo. Ne parleremo con un ospite che è già venuto a trovarci qui nei nostri studi e che ritorna proprio alla fine di questo 2022 che analizzeremo insieme, ovvero Antonio Perrotti, Head of Branch Italy for World Youth Life Insurance Lux. Benvenuto e grazie per essere ancora qui con noi. Grazie mille, ben trovati. Ecco, dottor Perrotti, appunto, siamo alla fine di un anno particolarmente complesso, il 2022, innanzitutto sotto il profilo economico finanziario. È stato un anno difficile per i mercati con due parole in realtà che hanno dominato, insomma, questi 12 mesi naturalmente il problema dell'inflazione, il problema del caro energia che sta per essere, insomma, affrontato e speriamo risolto anche dal governo. E poi naturalmente lo spettro della recessione che non riguarda solo il 2022 ma che ci porteremo avanti anche per i prossimi 12 mesi. Ecco, diciamo proprio al netto, insomma, di questa situazione così complessa dei mercati finanziari e dell'economia globale in generale. Quali sono i trend che hanno caratterizzato, appunto, questo anno e che hanno influenzato soprattutto il settore assicurativo? Beh, direi che c'è molta continuità rispetto agli anni scorsi, in particolare del trend inaugurato nel 2020 con l'avvento, purtroppo, della pandemia. E direi che ce ne sono fondamentalmente tre. Il primo, fondamentale, è l'aspetto di centralità del cliente, che sempre più viene in qualche modo assimilato anche dal punto di vista regolamentare dei diritti ad un vero e proprio consumatore, cercando, anzi, di rendere il prodotto assicurativo come un prodotto di mercato, quasi un prodotto commerciale. E questa la vediamo in particolare in termini di approccio regolamentare, in quelle che sono le indicazioni che vengono fornite dal regolamentore europeo, e Iopa, con in particolare un concetto che in qualche modo sintetizza, in un solo concetto, quello che è la centralità del cliente, cioè il belle formone. E cioè la capacità delle compagnie assicurative di offrire un prodotto i cui costi siano proporzionati rispetto al beneficio che il cliente ne consegue. E parimenti, direi anche un'attenzione da parte del regolatore italiano rispetto alle esigenze del cliente. Cito una su tutte l'iniziativa del Mystery Shopping, inaugurata da Ivas da qualche periodo, da qualche tempo, che appunto consiste nel fingere, impersonare più che fingere un cliente nel rapporto con una compagnia assicurativa, proprio per verificare sul campo la capacità della compagnia di rispondere alle esigenze del cliente e alle sue richieste. Quindi questo è sicuramente un filone. Un altro, che ovviamente è fondamentale, è quello dell'ESG. Non più tardi di agosto scorso, come compagnie assicurative, abbiamo introdotto all'interno dei nostri questionari d'adeguatezza la rilevazione della preferenza del cliente rispetto agli investimenti ESG. Questo non è un adempimento puramente formale, ma io lo considero veramente di sostanza, perché significa rendere il cliente adotto rispetto alla natura degli investimenti, rendere anche informare il cliente rispetto a quella che è la specificità di questa tipologia di investimenti. E quindi necessariamente questo tipo di indicazioni finiranno con dar seguito in maniera molto più veloce, molto più rapida al progressivo spostamento delle preferenze dei clienti verso investimenti di tipo sostenibile, andando evidentemente quindi a sacrificare quelle che invece non lo sono. Il terzo filone fondamentale è quello dell'insurtech. Recenti statistiche hanno rilevato che nel primo semestre di quest'anno sono stati investiti 200 milioni di euro in investimenti IT e tecnologici su insurtech. Insurtech non significa solo start-up, aziende innovative appena nate, ma anche investimenti fatti da compagnie tradizionali sulle tematiche tecnologiche. Quindi 200 milioni significa in progresso rispetto al 2021 che già manifestava numeri tripli rispetto al 2020. Il che significa che è un trend che è ormai inarrestabile, che vedrà progressivamente le aziende, le compagnie assicurative, confrontarsi col canale digitale come uno, anzi come il canale prevalente, nel contatto con il cliente per fornire un servizio sempre migliore ai nostri clienti. Ecco, lei nel citare questi trend ha citato anche delle parole chiave che hanno caratterizzato appunto questo 2022, abbiamo detto gli ESG, cioè gli investimenti sostenibili, dove nell'acronimo vengono citato e l'attenzione per l'ambiente e anche per il contesto sociale e poi naturalmente ormai l'invasione, possiamo dire, del digitale, la digitalizzazione che sta investendo tutti i settori, naturalmente anche quello assicurativo. Ecco, alla luce di questo nuovo contesto emergono naturalmente anche dei nuovi bisogni. Quali sono stati esattamente con questi bisogni nel 2022? Faccio una brevissima premessa riprendendo un po' quello che lei giustamente diceva all'inizio, un po' lo scenario macroeconomico e finanziario che si è prospettato ahimè in quest'anno che ormai definire straordinario è diventato ordinario, nel senso che veniamo dal 2020 con la pandemia in una sequenza di anni che per propria specificità sono comunque degli anni straordinari. Direi che il primo elemento, l'ha già toccato lei, è un po' la situazione dei mercati finanziari. Quindi quest'anno, fino fondamentalmente ad un mese fa, stavamo sperimentando delle perdite in doppia cifra, solo l'andamento dell'ultimo mese ci ha consentito un po' di ripianare le perdite, anche se siamo ancora a ridosso della doppia cifra. Solo gli Stati Uniti hanno fatto un po' meglio dell'Europa, ma per una questione più tecnica che di sostanza è legata al cambio euro-dollaro, che è ovviamente favorevole al dollaro. Anche i mercati obbligazionari hanno sofferto in maniera notevole, e questo in ragione dell'aumento dei tassi di interesse, perché questo ha portato all'introduzione di nuovi titoli obbligazionari, che un po' mi faccia banalizzare, come quando esce un modello nuovo in realtà di smartphone, finisce col penalizzare il costo evidentemente di quelli vecchi, che ovviamente diminuisce di conseguenza. Quindi questo rinnovo del portafoglio obbligazionario ha avuto come conseguenza una depressione di quelle che sono le performance anche dei titoli obbligazionali. Tutto questo condito dalla presenza nell'economia reale di un tasso di inflazione e di un aumento dei costi importante, che corrispondentemente ha ridotto la disponibilità dei consumatori all'investimento, o in polizze, ma in generale all'investimento, tant'è che abbiamo misurato una domanda di prodotti assicurativi, vita, investimento, che è la più bassa, la inferiore, negli ultimi otto anni. Quindi veramente un dato importante. Quindi a questo punto per rispondere alla sua domanda, quali sono i bisogni emersi da parte dei nostri clienti? Allora il primo è sicuramente trovare delle soluzioni che mettono a riparo dalle oscillazioni, quindi dalla volatilità dei mercati, quindi il rischio che in particolare in scenari di mercato come questo il cliente si trova ad affrontare. Il secondo, non meno importante, è sicuramente legato all'aspetto legato alla performance, perché in un contesto in cui, pur tornando magari a uno strumento a cui tutti sono affezionati, le buone e vecchie gestioni separate, i rendimenti che riusciamo a garantire sono comunque dei rendimenti che confrontati col tasso di inflazione evidentemente penalizzano quello che è l'investimento stesso. Quindi bisognerebbe trovare delle soluzioni che consentono di avere delle performance adeguate anche a fronte ovviamente di un contenimento del rischio di volatilità. Il terzo aspetto fondamentale è la flessibilità. Non più di oggi evidentemente abbiamo una situazione nella quale i consumatori si possono trovare di fronte ad un urgente bisogno di liquidità legato proprio all'impredicibilità di quella che è la situazione. Per cui essere vincolati all'interno di investimenti di lungo periodo dove magari ci sono anche penalizzazioni importanti all'uscita comporta evidentemente dei rischi su luogo sostenibili. Vorrei chiudere parlando anche della situazione pensionistica, in particolare dell'approccio previdenziale. Siamo in una situazione dove è all'ordine del giorno la discussione rispetto ai limiti pensionistici, uscita eccetera. Quindi è chiaro che la sostenibilità nel medio e lungo termine del sistema pensionistico è il rischio. E qui quindi è importante il ruolo delle compagnie assicurative e qui cito in realtà il presidente della nostra associazione, Ania, la dottoressa Farina, l'implicazione e il ruolo sociale delle compagnie assicurative soprattutto nell'ottica del sostentamento del tessuto sociale dal punto di vista previdenziale. Sì, e qui insomma si tratta proprio di trovare una soluzione poi anche a livello governativo, anche perché insomma alla previdenza sono legati altri problemi come quello della natalità, ad esempio, dell'occupazione. Poi lei, dottor Perrotti, ha citato insomma nella sua esposizione altri punti chiave, naturalmente l'aumento dei tassi di interesse con il ruolo chiave che è stato giocato dalle banche centrali per cercare proprio di contrastare l'inflazione, inflazione che ha pesato tantissimo sulla capacità di spesa poi dei cittadini e come ha detto lei in un periodo, in un contesto di magra alla fine le spese si concentrano sui beni essenziali e certamente e quindi anche in realtà altri settori come ad esempio quel assicurativo che pure appunto sarebbero centrali e fondamentali però vengono penalizzati perché le famiglie ovviamente devono concentrarsi prima di tutto sul famoso carrello della spesa. Ecco, e qui entra in gioco proprio Forward You, l'approccio di Forward You perché in un contesto ecco così mutato, così complesso e volatile naturalmente le chiedo quali sono le strategie che voi avete messo appunto per far fronte a questa situazione che è stata definita di crisi permanente. Noi come FW siamo una compagnia vita specializzata nelle unit, nelle policy unit linked e in quanto tale vogliamo evidentemente insistere su questo nostro punto di forza come pilastro strategico anche per il futuro. Come pensiamo di farlo? Al momento noi abbiamo due macro prodotti al nostro catalogo, il primo è la Forward Quant LT in lungo termine e il secondo è un prodotto a premio unico che si chiama appunto Forward Unico. Partirei dal primo, nel prodotto a premio ricorrente perché dal mio punto di vista è quello che meglio si configura come una possibilità, un'opportunità di investimento soprattutto in questo periodo. Per alcune caratteristiche intrinseche e per alcune legate proprio alle specificità del prodotto a premio ricorrente. Partirei in realtà dalle specificità del prodotto a premio ricorrente che per sua natura avendo in realtà un premio piccolo e quindi un investimento piccolo è come dire più in qualche modo si riesce più a fronteggiare dal punto di vista dell'investimento in una situazione in realtà di scarsa disponibilità economica. La stessa parcellizzazione dell'investimento del premio ricorrente consente anche di mitigare il rischio di volatilità perché riesco ad investire poco nel tempo e quindi ad ammortizzare il rischio nel medio e nel lungo periodo. Dal punto di vista invece del prodotto, della nostra offerta, il nostro quant offre invece delle garanzie, quindi la possibilità opzionale di introdurre delle garanzie dell'investimento che quindi proteggono il capitale investito rispetto all'oscillazione del mercato e quindi simulano in qualche modo quello che è il comportamento di una gestione separata classica garantendo comunque le performance di una classica polizza unit link. Non ultimo la flessibilità, quindi per affrontare l'eventuale necessità impellente di liquidità, il nostro prodotto offre dei meccanismi di flessibilità, qual è la possibilità di aumentare il premio, ridurre il premio, fare dei versamenti aggiuntivi, dei riscatti parziali, dei riscatti anche totali, quindi senza grosse penalizzazioni, che significa evidentemente avere la possibilità di gestire quello che io amo chiamare un conto corrente unit link, cioè una polizza assicurativa che fornisca tutti i vantaggi di una polizza unit, ma tutte le caratteristiche di flessibilità e di sicurezza, fra virgolette, di un conto corrente. A questo si affia anche il nostro prodotto a premio unico, che ovviamente non ha le caratteristiche in termini di garanzia del prodotto a premio ricorrente, ma in qualche modo ne è eredita quelle che sono tutte le caratteristiche in termini di flessibilità. In particolare al lato investimenti abbiamo fatto di recente anche, abbiamo introdotto delle novità importanti, abbiamo aggiunto delle linee di investimento a basso rischio, proprio per dare la possibilità al cliente di modulare l'investimento verso delle linee più conservative, soprattutto in periodi di forte oscillazione, e pensiamo nel futuro di introdurre delle ulteriori e anche più sofisticate, con addirittura delle logiche anti-rischio, cioè che garantiscono delle performance minime anche in contesti di mercato negativo. Tutto questo all'interno di una differenziazione degli investimenti nell'ottica della sostenibilità, offriamo infatti ai nostri clienti dei fondi che sono comunque articolo 8, quindi comunque in qualche modo ISG compliant, ma che lo sono in particolare, quindi abbiamo un'offerta light green, un'offerta dark green, che sono realte compliant rispetto alle normative, quindi all'SFDR e alla tassonomia europea, nel primo caso senza alcun limite inferiore, nel secondo caso invece con dei limiti importanti, cioè 60% SFDR e 30% invece di tassonomia. Ovviamente questo è possibile perché utilizziamo, come ormai ci siamo detti più volte, la tecnologia come un elemento pervasivo rispetto a tutta l'offerta, che insieme evidentemente alla prossimità ai nostri clienti e ai nostri distributori rappresentano le armi con le quali combattiamo sul mercato e quindi accettiamo le sfide di cui abbiamo parlato. Eh sì, veramente sfide importanti insomma quelle che ci pone questo periodo. Io mi sono segnata delle parole chiave che lei ha pronunciato, beh innanzitutto appunto flessibilità, protezione del capitale e naturalmente anche un orizzonte temporale che un po' si riduce. Non si può pensare più insomma a lungo termine, ma bisogna ecco procedere day by day, proprio ecco verificando di giorno in giorno anche qual è e come si sviluppa la situazione economica per poter intervenire poi all'occorrenza. Insomma ecco diciamo che queste sono un po' le linee guida di questo periodo, ricordando che però ecco non è detto che in un periodo comunque di complessità, di crisi e di volatilità qualche operazione insomma positiva ecco non la si possa fare. A un certo punto di vista è questo il momento migliore. Esattamente, è questo il momento migliore. Dottor Perotti io la ringrazio per essere stato qui con noi, per averci aiutato insomma a fare questo recap appunto del 2022 con il trend, le tendenze e le esigenze che sono emerse in questi 12 mesi. Naturalmente l'aspettiamo nel nuovo anno, nel 2023 per continuare a parlare, a discutere insieme. Con grande piacere, grazie mille e tanti auguri. Grazie, grazie a lei. Bene, ringraziamo il dottore Perotti per essere stato nostro ospite. Termina qui questo focus di approfondimento dedicato al mondo assicurativo. Non termina però la programmazione di Le Fonti TV, quindi mi raccomando continuate a restare con noi.